eccoci qui eccoci allora buongiorno a tutti allora puntata di crossword di quest'oggi faccio un disclaimer è con un caro amico quasi fratello che è guido brera e quindi a una puntata di finanza pop visto che lui una volta faceva anche il gestore faceva l'ex fan manager adesso guido non so discute di massimi sistemi fa serie televisive libri e quindi io sono il suo più grande censore essendo suo amico gli rompo le scatole quanto basta diciamo così e vabbè poi con thomas anche si sono conosciuti ma quello che lo manda diciamo più a fare in culo durante le giornate mentre ci parliamo di lavoro io credo che nel mondo guido sarò io no quello che ti manda più e mio figlio ve la giocate fate diciamo un uno a uno a quindi esatto quindi gianluca non solo mandi a cagare tutti quelli che conosci su twitter cioè ti sfoghi anche con gli amici c'è un guido ma noi ci siamo mandati a fanculo durante la pandemia tutti i giorni ecco perché gianluca è stato il primo a capire quello che succedeva in italia primo a capirlo il primo almeno nel nostro ambiente io devo dire la verità per altri motivi miei l'ho seguito abbastanza seguivo lui ma nel contempo la cosa la conoscevo perché mi occupo di inquinamento milano e comunque sia sono uno che sempre cerchi a vedere il rischio nelle cose quindi magari anche a volte sbagliato questa volta qui era anche più facile perché poi mentre parlavo con gianluca parlavo anche con altri che stavano alla finestra in cina a contare quante macchine passavano durante il lockdown in cina quindi voglio dire che arrivasse qua ci sembrava facile ci sembrava meno facile a entrambi perché i mercati salivano perché i mercati sono saliti per tanto tempo e ha ignorato completamente la pandemia mi ricordo un'altra che ci mandammo a fanculo perché una situazione non mi ricordo uguale fece un piccolo profit warning qualcosina e i mercati ancora salivano non successe nulla mi ricordo anche la apple invece che aumentò gli ordinativi e salì moltissimo ti ricordi quella conference call quella conference call di di apple dove dissero no ma noi non vediamo problemi abbiamo gli ordinativi che fanno più 10 cioè in piena pandemia cioè in piena pandemia in cina sì sì mi ricordo me l'avevi detto anche a me di questa call eh io l'avevo pure scritto su twitter che mi sembrava diciamo così un po' imprudente no e tipo sei giorni dopo hanno detto che non era così quindi però ci mandavamo a fanculo tutti i giorni anche perché poi ma poi il mercato è andato in free fall poi cercavo sempre un punto dove comprare lui mi diceva che era presto era presto in realtà io e Gianluca lavoreremo molto bene perché io compro sempre troppo presto e quindi con lui lo testavo ogni volta per dire ma posso comprare posso comprare posso comprare posso comprare poi alla fine abbiamo fatto una buona call no quasi sui fini ah no no c'era la scadenza opzioni era il triple which diciamo che io e Guido facciamo questo che siamo abbastanza simili in questo vendiamo il 10% prima di quando va venduta e compriamo anche il 10% prima di quando va venduta tanto che questa volta diciamo vedi Gianlu noi abbiamo venduto adesso non dobbiamo comprare e siamo caduti sempre nel comprare il 10% troppo presto però poi voglio dire salire adesso abbiamo però venduto quindi non capiamo completamente nulla io ho già venduto un 10% fa quindi boh io sono senza posizioni adesso perché non la capisco e quando la capisco evito sì ma anche tu hai venduto ma non è che sei corto no immagino no però però mi dà fastidio aver chiamato il bottom e poi vendere molto presto cioè i soldi facili io non li faccio mai prendo sempre la parte la prima parte della gamba quella più complicata non lo so adesso per me è una pagina di un videogioco può valere qualunque numero cioè non lo so eh infatti magari poi ne parliamo nella seconda parte del video la prima parte del video vai parliamo della tua attività letterario cinematografica vai 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 facciamo un po' di spot a Guido guarda facciamo vedere l'ultimo libro che ha scritto che si chiama La fine del tempo dopo i diavoli è scritto questa ma innanzitutto sei tu questo personaggio in prima pagina sei tu no 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 è una domanda che volevo farti perché assomiglia un po' assomiglia si assomigliava ed è dedicato a Federico Caffè giusto questo libro perché ci spieghi questa cosa la prima curiosità che avevo io era perché l'avevi dedicato a Federico Caffè perché il protagonista del libro è ispirato a Federico Caffè che è Philip Wade che è anche professore della serie dei diavoli perché il caffè è quello su cui diciamo i testi su cui ho studiato e perché il caffè rappresenta quello che un po' aveva visto la deriva sparisce due anni prima del crollo del muro di Berlino no e mi ricorda Majorana cioè uno che vede la deriva diciamo in cui si va e preferisce sparire tanto che lui aveva sul comodino il libro di Majorana quando decise di sparire quindi c'è proprio una storia che mi affascina molto come figura eh sì no però è un personaggio diciamo che nell'accademia italiana ha fatto innanzitutto sei stato un grande professore anche con grande seguito di scienziati dopo di lui quindi ha formato dopo aver lavorato anche in Banca d'Italia ha formato molte economiche ma interrompo per fare un disclaimer siccome l'ultima volta che Calenda è venuto a parlare da noi Carlo ci hanno detto ancora un po' gli baciavate il culo no? vi facevate autografare il libro eccetera non necessariamente noi quando invitiamo un ospite e io con Guido non vado d'accordo quasi su niente non necessariamente lo mandiamo a fare in culo gli diciamo quello che vuole dire lo dice cioè non è lo stile nostro di andare a litigare sui puntini cioè qui viene non necessariamente io e Thomas siamo d'accordo su tutto quello che ha scritto Caffè quasi su niente io per l'altro ma non è che siccome invito Guido lo devo bastonare perché lui invece gli piace mi frega nulla cioè nel senso affari suoi gli piaccia quello che gli piaccia così come volevo fare un disclaimer sui diavoli che in parte ho aiutato Guido non a scrivere ma insomma l'ho visto mentre quest'ultimo libro è per niente per rintuzzare un po' la critica che dice ah ma la serie non è come i mercati ah ma la serie allora quella roba lì dei diavoli non è come altri film famosi come Too Big To Fail o The Big Short che erano dei film che riproducevano degli eventi che sono successi veramente sui mercati quella è una specie di traslazione in romanzo di una cosa che è successa e che poi vabbè spiega Guido meglio di me che è la crisi greca dei sovrani ma che ha dietro diciamo così più che altro una metafora cioè adesso poi se Guido vuole dirlo meglio lo dice meglio di me però non credo che tu avessi la pretesa di ripricare esattamente quello che è successo nel 2011, 2012, 2013 che peraltro eravamo tutti qua e quindi lo sappiamo benissimo cosa è successo cioè non è che ci devono venire a spiegare che no però quel giorno lì non è andata così cioè lo sappiamo però dillo tu Guido no magari perché abbiamo anche dei nostri amici che ti hanno criticato tu gli hai risposto pure su Twitter secondo me sbagliando no ma io gli ho risposto perché no allora io non volevo rispondere in maniera polemica io ci sono rimasto male perché questo è un prodotto fatto da uno che voglio dire ha provato a farsi la sua Champions League da Italia non raccontando storie di Vaticano o storie di mafia o di camorra ma raccontando una cosa globale quindi come tu lo definireste è un tradable sector cioè mi sono esposto alla competizione mondiale ho venduto la serie in 130 paesi anche adesso esce oggi alle 18 l'ha comunicato che l'ha comprata una tv commerciale americana molto importante quindi voglio dire è stata una cosa fatta abbastanza bene pur la mia è un prodotto tra i talenti estremi eccetera eccetera e quindi ci rimango male per essere criticato in maniera così brutale dicendo che una delle serie più brutte che abbiamo visto tra parentesi è stata la serie terza serie più vista di sempre su Sky serie più vista non original in Germania quindi voglio dire proprio nemo profeta in patria però al di là di quello la cosa che mi dà fastidio è che la serie la devi vedere cioè non puoi vedere una puntata due minuti e dire che la serie non va bene allora la vedi e poi mi racconti la serie è un'iperbole quindi uno la coglie come un'iperbole se volevo fare un documentario a me non interessava per un documentario lo trovavo io personalmente poi sono disordinato non saprei manco farlo è un'iperbole di quando la finanza diventa uno strumento politico cioè di quando in un giorno in una passeggiata a Deauville due signori che erano mercoledì dicono no aspetta la Grecia può fallire allora se tu hai una cosa sia a risk free rate che è un bond di uno Stato che non può fallire mai sì potrebbe fallire in Argentina ma prima che fallisce il bond in Argentina il currency si svaluta cento volte quindi tutto sommato il risk free rate dovrebbe essere una sorta di manti dogma di ancora per tutti quelli che fanno il mio lavoro peraltro in una valuta in euro che è la valuta nazionale del paese e allora la finanza diventa uno strumento politico perché per comprare il debito dello Stato quando gli dico che uno Stato può fallire chiede diventa azionista dello Stato azionista obbligazionista quello che è cioè diventa uno stakeholder uno shareholder dello Stato cioè gli impone delle scelte politiche questa è l'iperbole della serie punto poi può essere fatta bene può essere fatta male è un romanzo e spiega ai giovani con vari punti di vista mai dando un giudizio ci sono tre personaggi uno di destra uno di sinistra e un trader largo infatti sì sì quindi come fai a non essere d'accordo dimmi non sono d'accordo con uno dei tre ma con tutti e tre cavolo non è difficile no ma infatti sono quattro perché c'è nella serie anche un anarchico anche un anarcho capitalista quindi quattro sono c'era anche Gianluca praticamente però no cioè a parte sì c'eri anche tu no no per dire che esatto chi ha letto il libro io l'ho letto mia moglie l'ha tradotto in famiglia ce lo passiamo come fosse la Bibbia perché tu lo sai che sua moglie ti ha tradotto lei tu magari non lo sai manco tu però esatto io non lo so adesso voglio conoscerla bene perché adesso lo stiamo vabbè poi ne parliamo esatto no vabbè a parte questo ma era per dire che l'ho trovato bello perché appunto aveva diversi piani di lettura c'erano quattro personaggi con le loro idee ognuno si poteva immedesimare con uno dei quattro personaggi ed era esatto era una diciamo multilivello se la poteva io voglio dire una cosa perché ho visto quel libro mentre veniva fatto e una delle critiche è no ma è complottista eccetera no secondo me invece se posso al di là di poi quello che pensa l'autore pensi l'autore cioè quel libro riproduce uno stato del mondo in cui questa cosa c'è no c'è un presidente degli Stati Uniti pirla e complottista c'è non è che se l'ha inventato Guido Brera i 5 stelle in Italia no Vax queste balle qua ci sono hanno vinto cioè Pappalardo c'è capito capito no ma quelli hanno vinto le elezioni cioè è un romanzo no e ha dentro ovviamente come dici tu è un iperbole ovvio ma non è che gli elementi del romanzo sono assenti e sono frutto della fantasia tipo Harry Potter no cioè queste robe ci sono poi sono mischiati nella maniera che non ti piace perfettamente lecito dire non mi piace la serie non è che c'è niente da dire su quella assolutamente cioè per carità io non mi permetto ma ma io tra l'altro ho visto nemmeno tutta ne ho visto cinque puntate però però francamente sono tutti elementi quelli che ci sono dentro nei diavoli che più o meno sono presenti nella società quindi in tante volte anche preponderanti in certi paesi quindi non lo so ma le critiche venivano da persone dell'ambiente economico immagino hanno poche immaginazioni sì perché dicono che sono pochi dicono che non è aderente ai mercati ma secondo me è giusto così perché non vuole essere quello no cioè francamente ripeto è un romanzo e quindi però Thomas ha letto quello nuovo di libro io no sì che ne pensi Thomas sì è carino sì è carino è carino preferivo il primo ti dico la verità ti dico la verità però ho trovato degli spunti molto interessanti su cui possiamo discutere anche nella seconda parte perché sono degli spunti di finanza che mi sembrano molto interessanti su QE sui tassi negativi per esempio sul debito pubblico i tassi zero tutte queste cose su cui tu hai almeno il libro ha una visione non ortodossa rispetto a quello che si sente oggi in giro rispetto a queste politiche che poi è un po' anche come la pensi tu Gianluca su queste politiche ah no beh su questo abbiamo parlato tanto io Guido anche negli ultimi cinque anni quando abbiamo avuto occasione di fare delle lezioni in giro per le università che si trovano anche in youtube hanno chiamato lui che poi ha chiamato me ma lui faceva una parte io facevo un'altra parte delle lezioni letture non lezioni letture e immagino che nel libro ci sia che i tassi negativi alla fine sono regressivi no? che è una cosa sì sì esatto è una cosa esatto che non è capita da molti che penso fondamentalmente veramente la pensiamo solamente in due però perché non è che sì io e lui la pensiamo così io penso che siano regressivi perché che è la roba che Piketty non capisce perché beneficiano essenzialmente gli asset rich perché con i tassi negativi secondo me non solo i tassi negativi sono regressivi anche i tassi a zero o molto bassi si beneficiano tutti gli asset rich perché c'è una rivalutazione in conto capitale no ma poi nel libro è spiegato in un modo che secondo me è abbastanza comprensibile che è quello e l'abbiamo detto anche diverse volte anche in altri video di Gianluca che le banche centrali alla fine hanno come target il valore degli asset azionari scambiati i mercati non è quello Guido alla fine infatti se diciamo io vorrei essere sempre più convinto di quello sono un coglione perché se lo fossi stato convinto di quello che ho scritto in quel libro avrei dovuto comprare il mercato al primo dollaro stampato dalla Fed avrei dovuto comprare il mercato un mese fa e l'avrei dovuto tenere forever sì infatti c'è arrivata questa domanda per un bel po' di tempo c'è arrivata questa domanda ieri su Twitter appunto cosa ne pensate dei mercati americani sembra assurdo che anche durante una pandemia io dopo quando ne parliamo tiro fuori una cosa che ha fatto Luca mio figlio che è un lavoro pregevole perché fa vedere i premi per il rischio che cosa è successo in generale sui singoli titoli non possiamo parlare per le regioni regolatorie ma dove si vede benissimo però ti posso raccontare una storia sui tassi di interesse che non c'è nel libro ma che voi raccontate che voi siete conti vi può affascinare sono contenti anche i vostri amici professori bocconiani e nella c'è una amici io e Thomas è un po' legato un po' al principio penso vorrei dire dirò delle cazze delle inesattezze ma la base è vera ci sono i pesci rossi nei masi di montagna vivono anche negli abbeveratoi dei cavalli e tu mi dici ma come mai abbevono perché l'estate ci vivono perché stanno in fondo nell'acqua nell'abbeveratoio e il cavallo quando va a bere non se li mangia però l'inverno ghiacciano e quindi dovrebbero morire invece l'inverno non muoiono perché l'acqua calda l'inverno è giù e infatti dov'è che si ghiacciano i laghi si ghiacciano sopra invece se voi andate al mare l'estate dov'è l'acqua fredda? nelle profondità eh certo e questo sembra contraddittorio dice l'acqua fredda allora è giù o è su e si è studiato che fino a un certo livello di gradi l'acqua fredda sta giù da un certo livello di gradi in poi quando scendono i gradi l'acqua fredda sale si ghiaccia e sotto si scalda questa è proprio una teoria cioè credo siano 3 gradi e 8 una cosa del genere e questa potrebbe essere in esattezza il numero di gradi però la storia tiene nei tassi di interesse per me è esattamente la stessa cosa cioè tassi di interesse molto alti sono regressivi è chiaro contraggono contrazione mostruosa dell'attività eccetera eccetera non solo regressivi ma sì regressivi e generano diseguaglianze perché le due cose insieme quindi tassi di interesse molto alti comunque lo sappiamo ammazzano l'economia poi c'è un certo livello giusto di tassi che non sappiamo qual è precisamente che è un tassi di interesse virtuoso su cui poi diciamo una leva di espansione monetaria dove c'è ripresa da un certo livello in poi se i tassi continuano a scendere fanno come l'acqua che si inverte cioè il ghiaccio va sopra e cioè da un certo livello in poi i tassi di nuovo diventano regressivi come a dire non è una linea retta più espanto più alti ma c'è eh questo mi sembra mi sembra un'ottima un'ottima analisi anche perché non è ti racconta che le cose non sono la relazione non è lineare non è lineare e questa è una cosa che chi fa i mercati come è il guido della non linearità dei processi se ne accorge prima o poi perché le bolle piuttosto che i crolli sono proprio la parte poi io non lo so dire però è così cioè il tasso interesse a zero contrae la domanda interna perché la gente i poveretti le classi deboli che avevano investito in titoli di stato magari al 2-3% non gli libera risorse poi magari in America un popolo indebitato gliela può liberare perché hanno il debito però alla fine il tasso interesse a zero cosa fa? e quella è l'essenza del libro consente ai forti di andare a impiantare nuove attività e nuovi business che perdono una fracassata di soldi per un mare di tempo ma noi i gestori li compriamo perché nel loro P&L dopo che hanno perso tutti i soldi del mondo e hanno distrutto tutta la concorrenza lavorando sotto costo rimangono gli unici e quindi il futuro lo schiaccio nel presente perché con i tassi da zero l'Ibita di una grande platform company di 24 billion metti tra 10 anni sono 24 billion o no ma se veramente la fai pure se mi perdi 4 billion l'anno ma poi fai 24 billion l'anno di Ibita aspetta tra 10 anni 15 anni è tutto schiacciato cioè questo io lo dico da artigiano lo dico a voi diciamo più tecnici di me in questo io sono più di pancia diciamo però arriviamo alla stessa soluzione il punto guido è questo che francamente a livello proprio diciamo così di quantità macroeconomiche è ovvio che un schiacciamento dei tassi a zero o addirittura sotto beneficia le attività finanziarie con dei guadagni in conto capitale ma beneficia chi le attività finanziarie ce le ha così come beneficia è questo che Pichetti non ha capito col suo cacchio di R-G beneficia chi ha accesso al credito ma chi ha che Pichetti non ha messo appunto esatto chi ce l'ha non c'è l'effetto leva non c'è l'effetto chi è che ce l'ha no scusami infatti chi ce l'ha l'accesso al credito chi può fare l'effetto leva chi ha gli asset e quindi e quindi quindi tu prima gli mandi il valore degli asset in alto non permettendo al mercato di funzionare perché poi tieni in business anche degli asset che magari cioè tieni in business magari della gente che deve uscire dal business e in maniera disproporzionata chi guadagna i soldi viene valutato molto di più dei rottami che hai tenuto sul mercato cioè degli zombie perché ha pricing power perché per varie ragioni e quindi aumenti tantissimo le diseguaglianze impedendo che ci sia una circolazione cioè una mortalità una natalità delle aziende naturale che potrebbe magari sconvolgerle quelle classifiche no ma zombifichi tutto e tieni i ricchi dove sono i poveri dove sono cioè molto più difficile no? e quindi adesso l'obiezione che ci faranno Guido diranno eh ma se i tassi vanno al 10 ho capito non è così A o B cioè non è no infatti stavamo parlando di quel livello di acqua di temperatura dell'acqua che fa funzionare la natura in un modo coerente se no cioè è quel livello lì certo che se tassi vanno al 10 salta il mondo e buonanotte mi fa piacere che avete ricordato questo perché per puro caso mi è capitato di commentare su un paper di alcuni colleghi che abbiamo ricevuto e che praticamente tratta dell'argomento della joint distribution del reddito e della ricchezza in cui quello che facevano loro essenzialmente era prendere i flussi trasformavano gli stock di capitale in flussi di reddito e per assurdo per assurdo quello che facevano quando lo stock di capitale era negativo lo sottraevano dal reddito gli ho detto ma guardate se l'effetto leva l'effetto leva ne tenete conto cioè tenete conto dell'effetto leva gli ho messo il commentino così no gli ho messo il commentino mi fa piacere perché è così è così cioè non va dimenticato non va dimenticato ma poi scusami c'è un vero problema Thomas che io faccio una fatica ho discusso a lungo anche con il nostro comune amico che è Filippo Cartiglia ma che è un altro economista che lavora in UNESCO cioè alla fine gli earnings cioè i flussi di cassa gli earnings chiamateli come volete la capacità reddituale quello che vi pare reali non è che possono crescere così tanto diversi dal mondo perché cioè il mondo la crescita del mondo cattura la produttività del mondo quindi se il mondo cresce al 4% reale gli earnings reali possono crescere più o meno là quello che li fa crescere di più sull'equity è l'effetto leva perché tu il capitale investito che hai cosa fai? lo finanzi con le banche che costano meno del ritorno sul capitale e quindi i tuoi earnings sì per cui cioè quello che manca da tutte le analisi di Piketty a parte la stecca che gli ha tirato la Fed 5 anni fa quando è uscito il libro che gli ha detto guarda che ti sei dimenticato gli entitlements eh sì che è un errore non da poco nel senso che lui non ha messo nelle sue equazioni con Saez il fatto che per esempio c'è il Medicare quella roba lì vale zero? no quindi a parte quello c'è un problema proprio dell'effetto leva che ovviamente per gli asset rich cioè quelli che hanno gli asset ha un valore enorme non solo ha un valore che viene prezzato immediatamente ma ha un valore anche di deterrenza e di barriera di tratti infatti peraltro è anche elusivo fiscalmente questo lui proprio non l'ha proprio visto sì vabbè quello no elusivo è ottimizzazione fiscale sì ecco chiamiamolo così no non è elusivo è sbagliato dire elusivo è un'ottimizzazione fiscale importante sì però quello che ti dicono diciamo i tuoi critici è che tu insomma se fai l'edge fund manager e combatti fai finta di combattere il sistema a cui partecipi scaviamo via sta roba vabbè ma non credo che sia il gestore di autostrade o uno di queste persone cioè nel senso a noi piace sempre fare no questa differenza tra ma è cosa vuol dire per parte del sistema ecco sì se ce lo vuoi dire visto che io e te siamo andati a fare a botte un po' per cinque anni su questa cosa delle rendite no perché poi è tutto neoliberismo invece capitalismo non so neanche cosa vuol dire piuttosto invece magari si domandino le rendite che vengono create ex legge non dalle io penso di penso di senza non voglio parlare necessariamente di me però io penso che nell'elenco di quelli che fanno parte del sistema io non credo di essere tra i primi posti nel senso che questo lo voglio spiegare io sono partito seduto su degli elenchi telefonici in un ufficio diciamo dopo che sono uscito da una banca che era l'UPS in un ufficio momentaneo a Milano e poi abbiamo aperto un ufficio a Londra e siamo partiti gestendo un edge che è con 30 milioni di euro e poi abbiamo fatto bene abbiamo vinto il premio miglior gestori eccetera eccetera senza diciamo approfittare minimamente del sistema semplicemente la finanza è algoritmica quindi può essere molto laica ed è antipatica se volete anche però la fine non è che io ho avuto bisogno di un politico di una lobby di un particolare diciamo appartenenza a una particolare casta cioè se tu vedi che tutto il PIL italiano adesso più di metà del PIL è tutto quanto regolamentato con un regolatore è forse di più con un regolatore che è stato Gianluca il figlio di Gianluca ha fatto dei conti che mi fanno sospettare diciamo Luca per la tesi l'ha fatto l'abbiamo ricostruito un po' assieme anche con l'aiuto di Thomas è inutile che facciamo finta di riclassificando tradable e non tradable alla fine siamo oltre siamo all'83 eh vabbè ma se siamo all'83 allora ragazzi io ci avrei prima di essere parte del sistema l'83% sono all'84simo posto diciamo a livello di percettiva perché prima approfitti di quella roba lì soprattutto in uno stato debole come il nostro guarda che poi diciamolo chiaro l'Italia è stata la manna per gli investitori la borsa italiana perché tutta la parte infrastrutturale è la parte italiana che ha attratto di più gli investitori esteri perché è la parte che ha remunerato meglio tutto con un regolatore spesso debole piegato da 1500 diciamo lobby e che quindi ha regalato diciamo una sovrarentita mostruosa allora io direi che chi fa parte ma parte del sistema è che è finanziere perché tutta questa roba qua è stata comprata a leva quindi è pura finanza quindi voglio dire ecco in quel senso là io non è che sputo nel piatto dove mangio se non altro io mi sono fatto la mia io sono nella parte diciamo nella parte di quelli che ci hanno provato magari ci sono riusciti senza chiedere aiuto a nessuno dello stato detto questo accetto che in realtà parzialmente vivo 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 un una 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 situazione interna di disagio perché se critichi il sistema comunque sia ne fai parte perché comunque sia ne fai comunque parte senza senza regarne danno ma ne fai parte però sono andato via però però questa cassa di compensazione interiore magari mi fa fare altre cose che non sto qui a dire che cerco di che cerco di fare a cazzotti con la mia coscienza tutti i giorni ecco per essere proprio no ma per esempio esatto anche la letteratura anche la letteratura fa parte di questo non fa parte sì sì la letteratura fa parte di quello fare le serie fa parte di quello Guido fa anche tante altre cose sì però il cliché di fare altre cose appunto non dico niente non dico niente non è non è rilevante però diciamo altri interessi no ma poi comunque sia non mi fa stare a posto con la coscienza ci faccio a cazzotti è vero cioè sì e quindi secondo me diciamo tante critiche che ci sono state sono giuste perché se una serie non ti piace non ti piace ed è giusto che tu lo dica diciamo sulla persona che io conosco da tanti anni oramai un po' meno secondo me poi tu voglio dire lui se la tira molto nelle tv perché va a fare il paraculore romano a dire le cazzate apposta per dirle provocare gli astanti e questo è un difetto proprio dei romani cioè di quelli come lui e per cui deve sempre provocare dire che lui insomma perché invece i milanesi invece non se la tirano vabbè ragazzi guardate io Milano Roma io sono di Roma Sud è una Roma diversa voi capite bene guardate che la Roma è una non è una Roma sono mai Roma dai che hai capito e quindi e quindi lui deve andare a dire cazzate che dice ogni tanto dalla Gruber però però la verità è che diciamo così è un po' più complessa no? di dire però facendo vedere volevo farvi vedere una cosetta questo è il lavoro di Luca che aspetta non c'ho lo screen sharing aspetta che te lo metto eh sì 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 volevo farvi vedere una cosa parlando di mercati perché Guido noi abbiamo fatto filmati con gli epidemiologi con Calenda con Oscar Giannino Guido Gumpa eccetera dicono non parlate mai di mercati facciamo vedere i mercati prova adesso dovrebbe andare sai allora intanto vi faccio vedere una cosetta questo lavoro di il mio figliolo allora questo dal 1961 sul mercato americano è l'S&P ok che è l'area diciamo così verde contro il premio per il rischio il premio per il rischio sull'equity viene calcolato utilizzando come risk free il T-bond ok e come vedete diciamo così dal lo scoppio della bolla di internet nel 2000 che che è quest'area dove fa il minimo intorno al 2% no eravamo in bolla piena quindi il premio per il rischio scende perché il mercato è altissimo no e scende il premio per il rischio risale intorno al 4% poi nel 2008 fallisce Lehman e cambia qui nel 2008 quando è intorno al 4% fallisce Lehman e cambia banda un'altra volta no e queste sono delle cose da tenere a mente perché ritorna guarda caso nella norma di dove era prima con però un'inflazione di quel periodo degli anni 80 completamente diversa da adesso il premio per il rischio cioè inflazione e quindi incertezze varie sui cicli boom e bust molto più molto più frequenti di quanti ne abbiamo avuti dopo quando diciamo siamo entrati nella fase in cui i tassi scendevano e basta perché la produttività scesa e basta sì allora quel periodo lì si chiama della grande moderazione diciamolo per chi non lo sa esatto esatto perché i tassi sono scesi per le manovre delle banche centrali ma anche perché le curve di produttività sono scese a livelli bassissimi e quindi diciamo la prima cosa da tenere molto bene a mente è che diciamo così la relazione tra mercati azionari e bond market varia per il prezzo del free risk come dice Guido che è sceso nel caso del t-bond a livelli bassissimi per cui in teoria quando il t-bond che approssima è la cosa migliore che approssima la crescita americana il t-bond in questo momento è allo 0,75 e in questo momento quello vuol dire che diciamo è prevedibile una crescita nominale dei prossimi anni dello 0,75 se usi quello come indicatore ecco la relazione tra e quindi le azioni dovrebbero valere di più perché uno degli elementi per calcolare il ritorno sulle azioni è il risk free se il risk free scende diciamo così le attività di rischio però cosa succede si è modificato il premio per il rischio quindi le azioni non possono andare a infinito perché è sceso il risk free aumenta il rischio di business perché aumenta perché proprio perché il risk free è sceso perché la crescita del mondo è prevista più bassa e quindi la dinamica degli utili è prevista più bassa e quindi sale il premio per il rischio ecco questa roba qui non è una cosa molto chiara ai più cioè che c'è una relazione che non è sempre univuca lineare tra scendono i tassi salgono le azioni può darsi che scendono i tassi e le azioni stiano là perché comunque la crescita degli utili è bassa e a un certo punto le azioni stanno là ok e poi le azioni americane sono salite per tante altre ragioni e gli utili sono cresciuti perché Trump ha fatto una riforma fiscale c'è stato un taglio delle tasse eccetera 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 ci sono mille ragioni però la prima cosa da tenere bene a mente è quella e quando Guido prima diceva della reazione che c'è stata sui mercati dopo la manovra della Fed per contrastare lo slump americano che c'è stato di tutto il mondo per il coronavirus diciamo all'inizio è sempre così è come un pendolo il mercato va in una zona di valutazioni per cui il mercato è come se scontasse che gli utili che verranno persi nel coronavirus verranno persi per un lungo periodo di tempo e a un certo punto va di là per cui ogni asset vale zero quasi diciamo ovviamente poi come ha detto Thomas in altri firmati l'economia si riaggiusta e quindi magari perdi capacità di reddito ma non è che smetti di fare tutto si riaggiusta e magari riesce a recuperare il reddito in altre forme di organizzazioni aziendali e magari non quelli di prima lo recuperano ma dei nuovi per cui dopo recuperi capacità di fare reddito e le azioni si riaggiustano nella valutazione risalendo e nel frattempo le banche centrali aiutano tutto questo processo con delle manovre monetarie espansive che servono anche poi ai redditi delle persone non solo alle valutazioni delle persone no certo ma infatti guarda allora se potevo dire la critica secondo me che è anche quella che faceva Guido prima al QE il problema è che è diventato il nuovo normale nel senso che c'è stato un cambio di regime di politica monetaria al di là delle manovre giustissime che sono state in questo periodo perché c'è stato questo slump quindi è inevitabile che i tassi si abbassino quando ci siano questi slump è naturale che sia così il problema è come se andiamo di fronte alla zombificazione giapponese nel senso quel sistema lì diventa una cosa diversa secondo me diventa una cosa diversa cioè diventa un nuovo regime di politica monetaria essenzialmente regressivo infatti quando con Guido siamo andati in giro ormai tanti anni fa perché era prima dei diavoli del libro la cosa che si contestava non è il QE in sé nel momento d'emergenza perché nel momento d'emergenza che l'illiquidità diventi insolvenza non va bene si contestava il fatto che sia andato avanti sette anni otto anni e questo cioè ma qualunque banchiere centrale sarebbe arrabbiatissimo con i politici perché come un medico gli dice sì ma curati non ti posso dare sempre il cortisone e non c'è una cura strutturale di fondo e quindi secondo me poi peraltro il QE ha questa caratteristica che gli effetti sul PIL diventano diciamo diventano sempre più si attivoliscono e invece la leva e tutto il resto continua a galoppare infatti il libro la chiamo la fine del tempo perché qui con i tassi a zero azzerano il valore del tempo ma noi qui guardate che il lavoro della finanza è quello di misurare il valore del tempo facci caso il nostro il nostro diciamo perché noi ci danniamo l'anima a dire se una società fa quanti utili fai quest'anno quanti quest'altro anno quanti quest'altro poi fai un BCF riporti ma se tu i tassi di 3 si è a zero fissi forever praticamente come appare adesso per tanto tempo ma mi dici mi potete spiegare la differenza che c'è se una società fai solo di quest'anno o di quest'altro un po' di più un po' di meno ma guardate è minima intanto i tassi sono a zero se la ZUOZ ti dicono che se paghi le multe all'ultimo ti levano dei soldi perché te la fanno pagare di meno perché questa è la regola svizzera ma vuol dire che se tu mi paghi un po' più tardi mi paghi meno e allora in maniera del tutto diciamo iperbole quindi non criticatemi ma allora se un'azienda dice io decido di non fare utili per tanto tempo perché voglio prima abbattere tutta la concorrenza e lavorare sotto costo poi all'ultimo li faccio tutti insieme nel frattempo però rimango da sola e beh quella è una bella tentazione è un modello di business si chiama disratti quello sì che diciamo c'è già la tendenza quando le curve di produttività si spostano così in basso e diventano vanno in isterisi praticamente c'è già la tendenza che comunque parettiana che il primo 20% prende l'80% cioè quello un po' c'è in generale non è proprio solo colpa della leva se però poi gli aggiungi anche il potere di fare leva a questa gente qua che è già direzionata a vincere e il costo del debito bancario va a zero proprio per coloro che lo possono accedere solo per loro va a zero perché gli altri è binaria là sì che è binaria là o puoi ed è a zero o non puoi ed è zero scusa o non puoi ed è zero zero non esiste non esiste un prezzo a cui puoi perché non esiste un prezzo a cui puoi quindi quello è scusa hai detto una parolaccia per quelli che ci ascoltano spieghiamo che cosa vuol dire parettiana perché ci sono diversi secchi siccome Pareto era un grande ha fatto diverse cose tra le altre cose ha studiato una distribuzione probabilistica teorica che spiegava bene benissimo la distribuzione della ricchezza esatto 20% praticamente il 20% più ricco prende l'80% della torta questa qui è un po' la distribuzione parettiana no perché poi esatto siccome non ci sono soltanto persone che sanno di economia almeno facciamo questa piccola è così no diciamo la leva che è un po' quello che Piketty ha un po' missato secondo me se posso per carità io sono l'ultimo però è che la leva l'accentua questa cosa qua certo 5 10 l'1 perché l'accentua questa cosa qua e quindi va bene insomma Guido mercati ci chiedono sempre allora abbiamo capito che tu sei fuori io pure nel senso che non capisco un caso abbiamo sbagliato perché in realtà cioè io quando ho detto di comprare i mercati l'avevo detto guardando cioè è ovvio che più soldi stampi e meno valgono i soldi e quindi deve salire il valore degli asset cioè è molto semplice quindi i mercati salgono per questo motivo tutto sta a capire va bene ho capito ma quanto devono salire i valori i valori degli asset in base ai soldi che hanno stampato quello è il tema appare che più le cose vanno male più stamperanno di più e più il valore degli asset salirà quindi l'equity è l'unica forma per difendersi dalla deflazione diciamo dalla svalutazione di potere di acquisto della moneta è chiaro che non può essere però in eterno cioè ci sarà allora allora io ti girerei e ti dire scusa mi dici quando scenderanno i mercati dimmi una cosa per cui fa scendere i mercati cioè se le cose vanno bene in teoria i mercati dovrebbero scendere perché stampano di meno e quindi di conseguenza però in questa fase qua sicuramente il pendolo ha fatto sì che tutti quelli che hanno venduto devono ricomprare e purtroppo è chiarissima io dico le conseguenze finanziarie della quantità di vising e questa è è che le borse salgono tutte tranne una Gianluca prima hai fatto vedere la borsa degli Stati Uniti fai vedere quella italiana no vabbè quella italiana è salita adesso sì no nel lungo periodo nel lungo periodo lui prima ha fatto vedere la stessa è esatto secondo me è esatto però anche nel lungo periodo se fai vedere i business regolamentati sono come la istituzione ah certo certo c'è il breakdown per settore ovvio no allora la borsa italiana io ho iniziato a lavorare nel 89 quando poi c'è stata l'invasione di Bush no e quindi e là io me lo ricordo l'indice era 18.000 sta a 19.000 nel 2020 eh ma è quello che dicevi prima no non è quello che dicevi siccome siccome massomenos dicono sempre ma la borsa non fa vedere l'espressione del PIL no il PIL italiano è fermo da 20 anni e la borsa pure e quindi eh voglio dire esatto infatti è così cioè secondo me invece riflette abbastanza bene il potenziale di crescita dell'Italia che è zero e quindi poi dentro è successo quello che dicevi certo quello che diceva che non è solo quello che il mercato riflette del fatto che ci sono delle rendite segregate che valgono di più ma è anche causa del fatto che il paese è immobile ecco questo è un bel paradosso questo effettivamente cioè uno ci pensa è un bellissimo paradosso è così quella è la causa del perché il paese è fermo perché la torta non cresce perché perché ci sono c'è della gente che diciamo così impedisce che la torta cresca faccio sempre l'esempio a quelli che me lo chiedono andatevi a guardare la bolletta elettrica dell'elettricità e guardatevi le varie le varie componenti della tariffa e vedete che ci sono delle componenti che il petrolio può andare anche a meno 42 dollari sotto zero che quello è tipo un 25% della tariffa il resto è fisso perché ci sono dentro gli cosiddetti oneri di sistema però fino a quando salirà Gianluca adesso io ho ancora un minuto purtroppo alle 6 e un quarto ho una colma ascolta non mi fa parlare non mi fa parlare di borse che dopo sono regolato io dico solo una cosa che lo dico sull'America va che allora nell'attuale nell'attuale eh situazione di mercato eh americano il mercato sconta un recupero alla redditività pre-covid entro quattro anni con un terminal value che è uguale a quello pre-covid dal quinto anno cioè che con un cash flow da usare nel terminal value che dunque i titoli per valutare i titoli cosa fanno gli analisti o quelli tipo Maguido stimano i prossimi cinque anni perché quello è l'orizzonte temporale massimo che pensiamo di avere ma poi non ce l'abbiamo ma fa niente facciamo finta di avercelo ok dopodiché dal quinto anno in poi si mette una roba che si chiama terminal value cioè tu stimi un cash flow tipico dell'azienda al quinto anno e lo sconti a un tasso di crescita tenendo conto che il tasso di crescita del PIL è il T-Bone il valore del T-Bone il tasso nominale di crescita del PIL è il valore del T-Bone e tu usi un tasso di crescita io di solito uso quello perché le aziende dopo un certo periodo maturano e quindi il G per me è crescita perpetua è quello del T-Bone perché non stimola ma è stracrescita dopo un po' e quindi ecco in questo momento il mercato pensa che la redditività americana la redditività delle aziende americane verrà recuperata entro i tre anni quindi quello che abbiamo visto è un one off che sparisce entro i tre o quattro anni e che dopo torna tutto come prima io sono di un'opinione completamente diversa non so se gli indici siano giusti qui perché non so perché poi gli indici cambiano quindi certi titoli vanno via dagli indici e certi rientrano per cui anche l'indice è difficile da chiamare però so che dei business secondo me spariranno nell'organizzazione attuale certo perché questa cosa del covid ha fatto ovviamente venire fuori un rischio che non era apprezzato cioè tutti noi avevamo il piano pandemico anche secondo me la Kairos di Guido ce l'aveva il piano pandemico ne abbiamo parlato anche l'altra volta esatto il rischio pandemico c'era la Fidentis la Kairos tutti ma nessuno era pronto e soprattutto non era apprezzato minimamente cioè non era proprio apprezzato minimamente e secondo me questa cosa qua adesso farà apprezzare nella maniera in cui Bill Gates mirabilmente in un TED Talks in cui parlava delle pandemie ha fatto vedere quando lui era piccolo che a casa sua c'erano le scorte eccetera ma anche perché allora una cosa che non è mai trattata secondo me che è molto interessante che ok poniamo il caso che il mini virus italiano sia vero assurdo assurdo e quindi la pandemia finisca qua però quante quante epidemie di coronavirus abbiamo avuto negli ultimi dieci anni quindi secondo me diventa un rischio che a un certo momento ti salta fuori per il semplice fatto che siamo un certo miliardiata sulla Terra e quindi purtroppo sarà un rischio che si ripresenterà con una certa variabilità di tempo però che bisognerà tenerle conto se si tiene conto negli ultimi anni tra H1N1 SARS MERS eccetera eccetera almeno delle parti del mondo in cui poi siamo stati più fortunati perché erano malattie sintomatiche quindi si riusciva a isolare i casi meglio di questa che ha un sacco di asimplomatici però diciamo hanno fermato il mondo in Asia soprattutto perché sono loro che vivono più a contatto con gli animali di noi per costume anche diciamo alimentari eccetera eccetera ci sono state delle disruption notevoli e la roba incredibile è che non l'abbiamo mai cioè Guido tu l'hai mai prezzato un rischio di questo tipo qua io mai ma no no ma poi non è piuttosto prezzavamo il rischio guerra ecco infatti ma mai rischio pandemia però per concludere io volevo dirvi una cosa che generalmente per parlare di mercati una ricetta valida è quello di vedere cosa fa diciamo le banche centrali stampare tutto però siccome è un circolo che si autoalimenta più i mercati salgono meno urgenza mettono poi agli interventi di stimolo e viceversa quindi è un po' un pendolo anche in quello cioè mercati che collassano c'è un'emergenza totale quindi stampi 8, 10, 8 trilioni di ragioni per comprare il sito una ricerca non so di chi che diceva così adesso che i mercati sono risaliti ci sarà meno urgenza i banchieri centrali sanno che comunque sia tutti questi stimoli non è che sono proprio molto molto salutari perché quello che noi diciamo i banchieri centrali lo sanno abbastanza bene e quindi proveranno a fare anche un exit strategy e se hanno esagerato proveranno un attimino e in quel momento lì i mercati di nuovo si affosseranno quindi bisogna sempre leggerla così la cosa e vedere poi come cavalcarla purtroppo ed è diventato come diceva Dremonti pagine di un videogioco ogni volta ce n'è una nuova sì l'unica cosa giusta che ha detto perché per il resto lo lasciamo però e vabbè anche un orologio rotto una volta c'ha ragione no e quindi e quindi no perché sennò poi dicono per carità esatto la prossima volta porteremo le palette il prossimo incontro chi lo fate? non lo so adesso vediamo con chi riusciamo a litigare perché ogni volta che noi portiamo un ospite ti devo dire una cosa Carlo lo conosci anche te Calenda allora l'ultima volta abbiamo fatto un incontro sulla garanzia di Fiat che secondo me era un scandalo no perché ho sentito quell'incontro era bellissimo ecco secondo me io dico qualsiasi imprenditore qualsiasi banca gli dice prima ascolta se c'hai i soldi nella holding di famiglia o di quello che è prima finanzi e l'hai controllato poi mi viene a chiedere i soldi detta proprio terra terra ecco abbiamo fatto quell'incontro e io e Thomas tu devi sapere che sui social qualcuno ci ha detto che siamo i responsabili economici di azione hai capito? io e lui che abbiamo scazzato con Calenda fino al giorno prima nel senso che ci siamo insultati ma anche simpaticamente perché poi ci conosce e finisce là una volta sono d'accordo una volta non sono d'accordo e quindi adesso quando noi invitiamo gli ospiti per esempio o litigano prima con qualcun altro che così non litiga ho capito hai capito? pregiamo qui un saluto vado che se no mi ammazza grazie mille Guido grazie mille grazie a te grazie ciao 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 ciao